Ciao, ben trovati a tutti. Anche oggi con PFP analizzeremo un altro fondamentale, un'altra parte del gioco della pallavola. Oggi parliamo dell'alzata di super. Parliamo dell'alzata di super in quattro e in due dal punto di vista del palleggiatore. Anche con un pochettino sui tempi degli attaccanti, però ovviamente dal punto di vista tecnico per il palleggiatore. Quali sono i concetti? I concetti che io porto ai miei palleggiatori ogni anno e che devono seguire nella mia squadra sono questi quattro fondamentali. Le chiavi, come al solito ci sono le chiavi tecniche che adesso vengono in sovrimpressione, sono cinque, sono più delle altre solite. Il palleggiatore della Cina, vedete? Fa una sorta di pivot, poi appoggia un pochettino il piede sinistro a terra. Il tempo, guardate l'attaccante, ha il piede sinistro appoggiato, farà solo a destra e a sinistra, finisce, finisce e le mani rimangono lì. Finisce verso l'obiettivo, come dicevamo, tocco abbastanza rapido. Qua a creare lo spazio con Corvolo, che conoscete tutti. Vedete? Si porta sotto la palla con i piedi, attacca, aggredisce la palla. È importante il concetto di andare ad aggredire la palla. Vedete? Mani, anche lei non distese, qua, per far uscire la palla con i polsi, l'ossa velocità. Lei ha proprio nella sua tecnica di scendere un pochino, però finisce verso l'obiettivo. Va a dare la palla, in questo caso all'attaccante, la porta là, vedete? Poi scende un pochettino, però finisce alto. Poi scende un pochettino, quindi è un pochettino. Grazie a tutti.